E' un uomo egoista. Non sai quanto lei ti abbia cercato. Da quando sei scomparso... Vuole un onigiri? ...ha cominciato ad aiutare gli altri. Il padre è coreano, la madre è giapponese. Lo conosci bene? Credo che dovresti aiutarlo se te la senti. Come dirigente dei servizi sociali dico che dovresti farlo. E come marito. Non le ho mai raccontato di te. Sei davvero un codardo, lo sai questo, vero? Gli scarti vanno bene, ma non per tutto. Insomma, io sarei uno scarto. Vogliamo anche noi un nipote tutto nostro. Proprio quando è riuscita a dimenticarti, decidi di rifarti vivo. Ehi, Teco! Ehi, Teco! Ehi, Ehi... Ehi, Ehi... Ehi... Ehi, Ehi... Ehi, Ehi... Grazie a tutti